buongiorno sono io il più grande cantautore di tutti i tempi ho scritto 330 brani non voglio essere presuntuoso comunque testo più musica sempre vicino alla madonna che mi protegge perciò nessuno può contro la madonna potete continuare per quali che come diceva padre bisogna pregare contro i frustrati che ce l'hanno con me contro quelli diciamo contro i nemici contro le avversità frustrati ricordatevi che io sono sempre vicino alla madonna perciò prima o poi quello che dite di male vi ritorna indietro capito è come il boomerang perciò tutte le vostre frustrazioni nei miei confronti vi ritornano indietro vedete dove sono io sono vicino alla madonna capito cioè non potete fare niente come diceva padre pio bisogna pregare contro tutti i frustrati i nemici di ogni singola persona capito capito bisogna perché le frustrazioni per i frustrati andate o dai sacerdoti per le vostre colpe morali oppure dagli psicologi capito non dagli psicatri perché lì poi arricchite le multinazionali perché a volte danno i medicinali che non capito giusto per arricchirsi e non va bene andate dagli psicologi per le vostre frustrazioni frustrati capito guardate sempre vicino alla madonna uno dei più grandi cantautone una persona molto umile di sostanza perciò io ho questa barriera contro tutte le avversità e contro tutti i miei nemici frustrati non potete fare niente contro di me un saluto a tutti i frustrati sempre vicino a maria la più grande barriera la madonna che mi protegge da tutte le cattiverie da tutte le forme di invidia di gelosie e da tutti coloro che mi vogliono ostacolare capito perché perché grande è il progetto su di me che maria sta combiendo frustrati non fare non potete fare niente contro di me posso solo pregare con il rosario contro tutti i frustrati che vogliono del mio male viva maria viva gesù io sono protetto dalla madonna capito non si può fare niente frustrati andate dallo psicologo